Rivendita abusiva di giocattoli sequestrata dai carabinieri del NAS di Treviso in zona industriale a Villorba. Il negozio, ricavato all'interno del capannone di una nota azienda, non era autorizzato. Sequestrata anche merce, circa 10.000 pezzi, per un importo di 200.000 euro che non risultava a norma con la certificazione CE che garantisce la sicurezza di giocattoli e maschere di carnevale. A carico del legale rappresentante scatterà una serie di sanzioni amministrative. Identificato e iscritto nel registro degli indagati il quinto giostraio responsabile, secondo la procura, dell'assalto al Bancomat della Banca di Credito Cooperativo di Monastiere del Sile di San Cipriano a Roncade del 13 gennaio scorso. Nella fuga, l'auto con a bordo il gruppo di giostrai che aveva fatto saltare lo sportello automatico era finita fuoristrada. In due, Giancarlo Garbin e Romeo degli Innocenti erano morti. Altri due complici erano rimasti feriti. Per il magistrato, alla guida c'era proprio il quinto uomo, fuggito a piedi dopo l'impatto. Firme false alle ultime elezioni comunali di Treviso, indagato dalla procura l'assessore provinciale Mirko Lorenzon per aver autenticato le sottoscrizioni a sostegno della lista Treviso mi piace, quella dei giovani della Lega che correva per lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Il diretto interessato respinge ogni responsabilità, affermando anzi di essere parte lesa in questa vicenda e di voler chiedere i danni. Il magistrato è però intenzionato a procedere e ha chiesto il rinvio a giudizio a carico di Lorenzon. Pauroso incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, questa mattina lungo la Feltrina, al confine tra Volpago e Montebelluna. Secondo i rilievi della polizia locale, una Iaris condotta da un 54enne di Villorba, che doveva svoltare a sinistra per imboccare la zona industriale, ha tagliato la strada al furgone di un 31enne di Padova. Violento l'impatto, che ha coinvolto anche una terza auto, la Golf di un 46enne del posto. Tutti e tre sono finiti al pronto soccorso di Montebelluna. L'autista del furgone è stato ricoverato per accertamenti.